gran mogol akbar 1542 1605 imperatore migal dell'india ricordato in occidente come il gran mogol compì l'unificazione dell'india settentrionale con una serie di campagne fortunate oltre all'energia del conquistatore akbar ebbe notevoli capacità politiche con la tolleranza religiosa promossa e la pacificazione tra musulmani e hindù entrando in contatto anche con i parsi e i cattolici gesuiti nel 1582 tentò di introdurre una religione di stato sincretista religione divina rimasta senza seguito perché commento perché il politico illuminato intuisce il futuro ma non riesce mai a concretizzarlo in quel momento per la sua società quella è una strada sbagliata eppure per la legge non è mai una strada sbagliata perché nel momento in cui il politico illuminato sceglie una strada che sembra sbagliata la società impara una lezione che prepara l'esperienza futura a